il termine dialogo derivato dal greco conversare discorrere composto da dia attraverso e logos discorso indica il confronto verbale che attraversa due o più persone come strumento per esprimere sentimenti diversi e discutere idee non necessariamente contrapposte esso è sempre auspicabile ma non sempre attuabile purtroppo in quanto presupporrebbe la disponibilità delle parti ad un confronto onesto rispettoso e sincero nessuna delle parti quindi deve prevaricare e cercare di imporsi o partire col presupposto sbagliato di non avere nulla da poter imparare dall'altro persino il signore di fronte a erode non gli rivolse parola perché sarebbe stato del tutto inutile datosi i sentimenti del suo interlocutore chiediamo quindi sapienza a dio per sapere come comportarci non assecondando l'impeto di voler esporre le proprie ragioni a tutti i costi ma capire piuttosto chi sia nostro interlocutore quali siano le sue motivazioni e se sia disposto veramente al dialogo ad una discussione aperta e disponibile a ragionare con uno spirito di onestà amicizia e lealtà grazie a tutti Grazie a tutti.